E questo è un J-Hax che ci piace, è un J-Hax molto emotivo, in collaborazione con Mr. Rain che è molto amato dalla sua fanbase, è proprio un bravo ragazzo Mr. Rain, è uno che va per la sua strada, fa la sua musica, a livello di scrittura è un po' una fusione tra Fedez e Mechna, non so se questa similitudine, metafora vi piaccia. Però ecco a me questo brano ci sono degli aspetti che mi piacciono moltissimo, in primis il ritornello di Hax, Hax quando fa questi ritornelli al limite dell'intonazione con quella sua voce roca che comunque lo contraddistingue come quando fa quei ritornelli alla J-Hax per intenderci che ti arrivano dritto al cuore e in cui le parole non sono poi così complesse ma sono dirette, sono forti E lui con l'interpretazione te le fa arrivare ancora di più, questa è una bella canzone, è una bella canzone pop, non c'è nulla da dire e i due si mischiano bene, mi sembra un po' di rivedere la combo J-Hax-Fedez però un po' meno populista, Mr. Rain è un po' più intenso, un po' più drammatico di Fedez. Hax tra l'altro ti fa una strofa in cui si sente che questo argomento ce l'ha dentro, Hax è una di quelle persone che nonostante l'età conserva un giovane non bambino ma un giovane adolescente dentro, quella rabbia adolescenziale non se ne va mai. E lui te la racconta bene quando fa certe canzoni e soprattutto c'è una parte bellissima in cui dice che quando cominci ad odiare comunque perdonare è ciò che ti difende. E' bello quando comunque si portano certi valori come quello del perdono perché spesso noi siamo pronti ad odiare carichi di rabbia verso il mondo, verso tutto e ci intossichiamo più del dovuto per le situazioni della vita quotidiana che sono difficili, che sono devastanti a volte. E c'è una sola strada talvolta, aprirsi alle fragilità, saper perdonare prima se stessi e poi gli altri. E questa canzone credo che parli proprio di questo, di questa persona tipo che è lì che è in un momento di sofferenza, di tristezza e non ha voglia di sentire niente ma tutti sono lì a dare buoni consigli con la loro razionalità senza darti la possibilità di elaborare l'emozione che è la cosa più importante. E' inutile che uno dice come devi fare. La strada è abbastanza comune a tutti, è chiaro che c'è una strada da percorrere ma a volte sei stanco, a volte le gambe non reggono, a volte hai solo bisogno di fermarti un attimo e per ripartire il perdono è sempre fondamentale. Bel brano, veramente molto toccante da un punto di vista pop ovviamente, non stiamo parlando di un capolavoro della musica italiana, stiamo parlando delle emozioni di due uomini adulti che hanno contattato la loro parte interiore più adolescente, più relativa magari all'infanzia e che ti raccontano questo sentimento di oppressione. E lo fanno con libertà e portandoti una soluzione che è quella del perdono ed è quella del vedere le cose dalla prospettiva della pace. Ecco questa canzone è un invito alla pace raccontata con rabbia e quindi secondo me funziona e sicuramente è una delle tracce migliori dell'Axe degli ultimi tempi. Non ho ascoltato il disco punk però ecco questa canzone l'avrei fatta uscire dopo il lockdown al posto della hit estiva perché secondo me era più autentica questa canzone che una voglia assurda. Ecco questa canzone mi piace perché è autentica e Axe quando si racconta così in maniera autentica e ci sta dentro ti comunica ma mi viene in mente anche quando ho fatto a cena coi tu e con Emi Schilla no? Cioè lui lì fa un ritornello ma il modo in cui te lo canta, cioè tu dici stai parlando di una persona di 40-50 anni e te la canta come un ragazzino che ti fa capire a me questa cosa non mi sta bene. Ecco oggi Axe ti sa palesare il peso dell'ingiustizia e in questo caso ci è riuscito quindi grazie Axe, ultimamente tra l'altro sto facendo un riascolto generale di articolo 31 ma quante ne ha fatte il vecchio zio Axe, mamma mia quante ne ha fatte, quanto si è raccontato, quante emozioni ci ha dato, veramente bisogna avere rispetto per Axe qualunque cosa faccia, che piaccia o meno è comunque lo zio Axe e comunque ci vuole un gran bene. Noi vogliamo bene a lui.